Stamattina c'è questa conferenza stampa alla presentazione di questo evento della sala immersiva interattiva al castello di Scilla. E' una prima risposta questa sulla valorizzazione del castello rispetto anche a tante polemiche del passato? E' un'ulteriore risposta. Noi la prima risposta al castello di Scilla l'abbiamo data nel momento in cui siamo riusciti a portare da 20.000 visitatori a 60.000 visitatori nell'arco di un anno e mi pare che è la risposta che la dice lunga sull'impegno che l'amministrazione comunale ha inteso e intende dare nello sviluppo del castello di Scilla. Per non parlare poi dei progetti che sono stati finanziati appunto perché c'è di mezzo il castello di Scilla, per non parlare poi di questa iniziativa oggi che secondo me è fondamentale dal punto di vista dello sviluppo culturale e turistico della città. Perché avremo la possibilità di far arrivare a Scilla centinaia e centinaia di ragazzi delle scuole medie e scuole superiori che verranno a visitare questa sala interattiva che è un momento di grande importanza. Io sentivo con grande attenzione quello che prima nella conferenza diceva il presidente della fondazione Orcino Orcas dove è evidente che è una cosa a livello culturale elevato e tra le altre cose l'unica in Calabria e l'unica nel Meridione. Per noi è un momento di grande gioia oggi perché raggiungiamo uno, un obiettivo, non il primo, ma un obiettivo che porterà dei vantaggi alla nostra città. Come cambia il modo di interfacciarsi con i fondali marini? Qui abbiamo dei ragazzi che da qui a poco vedranno questa bellissima sala interattiva. L'idea è proprio quella di aprire il più possibile la fruizione perché poi i fondali sono molto belli ovviamente visti dal vivo ma quel tipo di fruizione, di percezione è limitata a pochissime persone che scelgono di fare quello, non è una cosa facilmente accessibile. Quindi l'idea di riportare all'interno di una sala che però mantenga questo senso poetico, questo senso emotivamente forte, questa possibilità di scoperta dei fondali apre ovviamente a una fruizione molto molto più ampia e anche un po' più giocosa. Questo è un primo passo perché poi successivamente voi cercherete di fare qualcosa in più, oltre ai fondali marini si potrà scoprire qualche altra cosa? Sì, la tecnologia, l'infrastruttura una volta realizzata può essere continuamente rinnovata, o meglio più che rinnovata, può essere accresciuta con nuovi scenari. Io vedo una simbiosi, il maniero, il punto della storia di Scilla e la tecnologia. Sì, certamente sì. In Italia abbiamo un grande bisogno di reinventare modalità per conservare, ma soprattutto per valorizzare l'immenso patrimonio artistico-culturale che abbiamo. E certamente il castello di Scilla, questa rocca splendida, mitologica, millenaria, non poteva che essere valorizzato rinmergendorci in modo virtuale negli abissi dello stretto di Messina. E quindi credo che sia una bella idea. Poi l'infrastruttura può essere utilizzata per molte altre cose. È un'interessantissima infrastruttura didattica di divulgazione scientifica, ma può essere utilizzata anche per la cura e la riabilitazione. Stiamo studiando con il CNR dei titoli, cioè delle forme di interattività specifiche per la cura dell'autismo e di alcune fobie. I visitatori verranno a Scilla non solo per scoprire le bellezze del castello, che è il simbolo della cittadina, ma anche per trovare qualcosa in più. Sì, nel castello di Scilla, un bene d'eccellenza della Calabria, è stata realizzata un'opera d'eccellenza. Una sala immersiva, interattiva, unica in Calabria, realizzata dalla Fondazione Orcinus Orca e dalla comunità di Messina, in cui il visitatore potrà interagire con delle immagini dei fondali sottomarini della nostra zona, vedere anche reperti storici, creare delle composizioni musicali di grande impatto. Sicuramente un'opera che, siamo sicuri, attirerà, oltre alle scolaresche della provincia, migliaia di visitatori, contribuendo allo sviluppo turistico della nostra cittadina. Grazie.